Sono l'architetto Mauro Frate, ho studio professionale a Bologna e sono qui perché uno dei miei progetti, il progetto delle microresidenze di San Felice sul Panaro, ha vinto il premio per la nuova edilizia. E' un progetto, a me diverte chiamarlo una baracchina di legno molto prestante. In realtà è un progetto molto raffinato, la sua raffinatezza non è dovuta tanto alle mie capacità, quanto a una continua interlocuzione con una serie di soggetti che ne hanno progressivamente declinato le caratteristiche insieme a me. E' per cui i responsabili del progetto degli impianti, delle strutture, perché è una struttura integralmente in legno, ma soprattutto vorrei dire le persone che si sono poi dedicate alla gestione dei servizi. Dico questo perché? Perché in qualche modo è l'invenzione di un servizio nuovo, un servizio che muta alcune sue caratteristiche dall'esperienza del nord Europa e che cerca di ragionare intorno a nuove forme di co-housing, anche se è un termine un po' stretto. Il progetto si costruisce su un'idea di gradiente e di privacy, nel senso che mette insieme tre tipi di spazi. Uno spazio della convivialità vera e propria, un grande soggiorno collettivo che in coda costruisce uno spazio dove è possibile mangiare insieme, uno spazio per la refezione. Una fascia di servizi dove ci sono tutti i bagni assistiti e delle micro cucine che consentono eventualmente l'ospito e la voglia di ritirarsi dallo spazio di uso collettivo e fruire di un livello di maggior privacy. E infine la fascia delle camere che sono lo spazio dotato ovviamente della maggior privacy possibile dove uno si ritira nel suo ambito individuale. Ecco, intorno a questa cosa ovviamente stiamo facendo degli esperimenti perché è nata la possibilità di realizzarne ben nove. La scelta iniziale è stata quella non di polarizzare un servizio in un'unica grande struttura ma di spargere sul territorio delle piccole strutture che a noi sembravano esprimere un livello di resilienza maggiore una resilienza maggiore dal punto di vista sociale ma dal punto di vista economico per esempio perché adesso dirò una banalità ma è sicuramente più facile cacciare fuori 500 mila euro piuttosto che un milione di euro e così via. Allora intorno a quest'idea di resilienza queste strutture sono nate e devo dire che ci stanno dando delle grandi soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda l'apprezzamento di coloro i quali ci vivono dentro.